Allora, è dovuto chiarire la situazione. Nella scorsa sessione di bilancio è già stato inserito questo emendamento discusso in commissione. Ci eravamo interrogati appunto sull'opportunità di portare avanti immediatamente questa azione e abbiamo voluto fare un confronto che è stato fatto con tutte le associazioni che rappresentano i mercati, in sala a parsi, non con tutte le AGS, con tutte le associazioni che rappresentano le AGS. C'era Confesercenti, Confomercio, FIVA, AMBA e molte altre. Se volete vi mando la lista. È stato comunicato quello che vado a rappresentare in questo momento, che un'analisi approfondita fatta dall'assessorato insieme al Dipartimento ha portato come elemento di riscontro che i canoni affidati alle AGS per fare manutenzione ordinaria, guardiania, vigilanza e tante altre cose vengono spesi immediatamente al 51%. Ci ha affermato solamente il fatto che questa analisi era parziale. Nel tempo in cui il bilancio è stato ritrattato, l'analisi è stata completata ed ora con il 100% dei dati delle AGS possiamo dire che ne viene utilizzato il 51%. Quindi qual è il senso di questo emendamento? Vi abbiamo dato fiducia, è un servizio utile senz'altro, però il 49% di questi fondi non viene utilizzato per i mercati. Allora ci dispiace, ci tocca invertire questa tendenza, ci tocca riprendere in carico una parte di questi contributi affinché questi lavori vengano fatti perché di fatto i mercati sono in condizioni pietose. Se le AGS avessero usato questi fondi come era previsto dagli schemi di convenzione non avremmo dovuto fare questa modifica. Nulla vieta che in futuro si possa rimodificare, però ad oggi noi riteniamo di dover fare questa modifica perché riteniamo che queste risorse vadano utilizzate per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali edilizie dei mercati. Ve ne è estrema necessità, come sanno tutti i membri della Commissione, opposizione e maggioranza. Quindi non vi è cattiveria, vi è solo la volontà di migliorare le cose. Posso capire le AGS, sicuramente c'è una situazione che va distinta tra mercati floridi e mercati non floridi che si può esaminare nel dettaglio, ma partendo da questo punto di vista, partiamo dal 50 e 50. Noi siamo aperti al dialogo con le AGS, discutiamo dei casi particolari, ridiscutiamo gli schemi di convenzione. Per rispondere al consigliere Politi, gli schemi di convenzione hanno durato annuale, possono essere disdetti sei mesi prima. Se ve ne sono in essere, si porteranno a scadenza con gli attuali canoni, poi passeranno al nuovo canone e nuovi schemi di convenzione. Quindi si definiranno esattamente cosa deve fare la AGS in ragione di quel 50%. Quindi ci sarà un dialogo e una negoziazione in questo senso. Spero di aver chiarito l'intento. Grazie. Grazie.